Ehi, ehi! Vedi quello che vedo io? Oh, mio Dio! Ha dei denti lunghissimi! Oh no! Stanno crescendo ancora di più! Ah, non vi preoccupate ragazze, non può farvi male! Beh, che sollievo! Ma questo è il nostro spunto per la prossima sfida di disegno! Ok, abbiamo il numero 5 su un foglio! Credo di sapere cosa posso farci! Devo solo aggiungere delle linee al numero! Piccoli scarabocchi lungo la schiena, un occhio ovviamente! E non posso dimenticare i denti, anche i dinosauri hanno bisogno di gambe e braccia! Ha bisogno di andare in giro? Ok, e ora un po' di colore, voglio che sia spaventoso! Un altro po' e abbiamo finito! Sì, ha un aspetto fantastico! Stavolta, tieni gli occhi sul tuo! Ehi! Oh, e dai! Non posso nemmeno sbirciare un po'! Ehi, aspetta un attimo! Matite! Sicuramente mi aiuteranno col mio problema! Ok, stringo solo un po' qui! Forse un'altra aggiustatina a queste matite! Ho dato forma alle gomme da cancellare delle matite! Un cuore su questa e una stella su quest'altra! Ok, lo giro così posso iniziare! Ok! E ora uso il mio pennarello di fiducia! Devo fare una specie di forma a uovo! E ora le gomme le intingo nella tempera! Iniziamo a timbrare! Ok, stop! Vediamo i vostri capolavori! Ecco il mio! Spero le piaccia! Ed ecco il mio! Non si è ancora schiuso! Cosa? Non so se è valido! Oh, ma il tuo è bellissimo! Hai vinto tu! Io? Davvero? Evviva! Grazie mille! Adoro queste patatine, ma sono ancora più buone se le condividi con gli amici! E comunque per me il tuo uovo era carinissimo! Grazie! Ok, ragazze! Altro giro! Vediamo a chi tocca! Disegneremo delle mani? Oh, interessante! Ho un'idea! Guarda che roba! Ah! Che è successo? Niente, è solo una scossa! Quell'ombra è la mia mano? Ehi! Ho avuto un'idea geniale! Ecco, così va meglio! Si è fatta luce, signore e signore! Al lavoro! Prima calchiamo la mano! Poi falla diventare un grazioso uccellino! Coloriamolo con un gestetto bianco! Ma lasciamo da parte le ali! Non dimentichiamo zampine e becco! Così! Non ho idea di come si disegna! No? Così non ha senso! Così? Non ci riesco proprio! Ah! Ci sono! Scusa! Ho sbagliato la mira! Proviamo adesso! Ricarca la mano così! Verrà fuori un simpatico cagnolino! Non sembra per niente una mano, giusto? Guardate che lingua gigante! Coloriamolo di marrone! Tempo scaduto! Guarda che capolavori! Quella era la tua mano! Quella era la tua mano! Incredibile! E quel paperotto è stupendo! Davvero incantevole! Mua! Che posso far vincere? Che posso far vincere? Sono tutte e due così brave! Due giudici per due bravissime vincitrici! Abbiamo vinto entrambe! Ho dipinto! Sei il mio preferito! Ah! Nonna! Occhio! Non far cadere un altro dei miei dipinti! Sul serio? Poteva essere un disastro! E se si fosse appoggiato? Oh, guarda! Ho della vernice su tutta la giacca! Ops! Il mio dipinto! No! Oh, che incubo! Non potrei sopportarlo! Credo di avere avuto un'altra grande idea! Scusa, nonno! Questa mi serve! Ok, ho questa lacca per capelli! La devo sfruttare al meglio! Aggiungerò uno strato al dipinto! Deve essere abbastanza per rivestirlo tutto! Ecco qui! Ora che è asciutto e completamente protetto! Guarda! La vernice non si stacca! Ah! Finalmente al sicuro dalle disavventure del nonno! Oh! Ehi! Hai ragione! Ha funzionato! La giacca è pulita! Meno male che conoscevo quel trucchetto! Il mio dipinto è salvo! Sì, un altro rotolo di carta igienica! Adesso sì che posso finalmente completare la torre! Il mio castello è quasi fatto! È bellissimo! No, no! Sei tu! Non riesco a trovare i miei occhiali! Non riesco a vedere niente! Sono cieco! Smettila di agitare in quel modo le braccia! Oh no! Il mio amato castello si è sbriciolato! Tutto il mio lavoro è ora soltanto un mucchio di tubi di cartone! Ascolta, ecco gli occhiali! Prendili e battene! Sembri sconvolto! Che è successo? Tutti i miei sogni infranti! Sembra così triste! Aspetta! E se potessi sistemare la cosa? Ho un tubo di carta igienica! Lo piego in modo che diventi piatto! E poi lo taglierò a cerchi! Perfetto! Ha funzionato! Adesso il prossimo passaggio! La pistola a caldo! Mi basterà un goccio proprio qui! Ottimo! Ho bisogno di un secondo cerchio! Questo andrà bene! Incollerò questa estremità a quest'altra! E come volevo! Adesso continuo ad aggiungere gli altri anelli! Ecco! Ho fatto un intero cerchio di anelli! Adesso ne aggiungo altri! In mezzo ai cerchi già pronti! Ed ecco! Dipingiamolo con questa vernice rosa! No no! Guarda che ho fatto! So quanto ti piace l'arte! Cosa? L'hai fatto con i tubi di carta igienica! Sì! E guarda! Puoi appenderlo sul muro come decorazione! Così! Che ne pensi? Eh? È sbalorditivo! Lo adoro! Vediamo come posso mettermelo bene! Cavolo! Ho il rossetto sui denti! Forse dovrei provare da questo angolo! Ok! E vai! Ora posso finire il mio disegno! Ta-da! Ecco qua! Ho finito il disegno della preside! Ecco dei veri ritratti! Vedi? E ora ti sfido a colorarli! Beh, se dobbiamo farlo! Allora ci servirà il make-up adatto! Eccone uno anche per te! Va bene! Il mio trucco è pronto per l'uso! Mi chiedo da dove dovrei iniziare con il mio trucco? Oh sì, questo! Oh sì, questo! Sono una grande fan delle labbra truccate in moda audace! Esatto, così! Bellissimo! Questo rosa mi piace un sacco! E ora il blu! Ecco qua, per bene, sulle palpebre! Questo blu ha un sacco di brillantini! E non dimentichiamo il blush! Voglio mettere in risalto questi belli zigomi! Un po' di colore anche sui capelli! Oh, ma che bello questo viola! Vorrei anche io i capelli viola! E le ho fatto anche delle lentiggini perché sono carine! Tadà! Ho finito di colorare il mio ritratto! Anche io ho finito! Signora preside, siamo pronti per il suo giudizio! Oh, che trucco che l'hai fatto! Non voglio guardarlo! Oh, mi piace tantissimo il tuo! Che carino! Tadà! Hai vinto un altro premio! Questa palette! Sì! Amo truccarmi! Non vedo l'ora di provarlo! Ehi, aspetta un attimo! Questo non è make-up! È cioccolata bianca! Cosa? Ma, ma, è il mio ritratto! Voglio baciarla, è bellissima! Beh, io l'amo, anche se non piace a nessuno! Ah! Oddio, ti sei trasformato in un vero e proprio clown! Cosa? Ah! Mi sono trasformato in un clown! Va bene, ragazzi, è ora di fare un test! Datemi tutti i vostri foglietti! Va bene, consegnali! Non provate a nasconderli! Va bene, come vuole! Ecco qui! La professoressa viene qui! So io cosa fare! Ho bisogno di nascondere il mio foglietto! Userò il mio orecchino per aprire il cellulare! Ho questo minuscolo foglietto per le equazioni! Lo piego rendendolo ancora più piccolo! E lo nascondo dentro il telefono! Adesso sono pronta per fare questo test col telefono al mio fianco! Va bene, dammi il telefono! Devo controllarlo! Sì, tieni! Ok, se n'è andata! Posso riaprirlo? Sono così intelligente! E adesso ho un foglietto per barare! Sono un genio! Il mio unicorno personale è così carino! Ma hai bisogno di un po' di colore! I miei pennarelli sono qui da qualche parte, vero? Oh no, c'è qualcosa che non va! C'è inchiostro ovunque! Non posso disegnare con questi! Mamma! Che c'è che non va, tesoro? Guarda i miei pennarelli! Oh, tesoro, va tutto bene! La mamma sa cosa fare! Intanto puliamo questo casino! Non possiamo avere le mani sporche! Puliamo anche lo zaino! Non funziona! Aspetta, prenderemo un altro zaino! Fammi prendere il telefono! Wow, gli zaini sono così costosi! Andrà tutto bene! La mamma deve vedere quanti soldi ha! Sapevo che era troppo bello per essere vero! Odio vedere la mia bambina così triste! Aspetta, penso di sapere come sistemare tutto! Potrebbe funzionare! Per nascondere le macchie, devi soltanto prendere del feltro colorato! Taglia il feltro a forma di unicorno! Applica la colla su ogni parte e assicurati di coprire tutto il feltro! Quindi attacca i pezzi allo zaino! Fallo per ogni parte e crea un unicorno! Alla fine la macchia di inchiostro non si vedrà più! Non possiamo dimenticarci gli occhi! E anche le sue belle folte ciglia! Adesso sì che è magico! Ciao tesoro, tutto ok? Sono riuscita a pulirmi le mani! Bene, la mamma ti ha fatto questo! Uno zaino unicorno! Lo adoro, grazie mamma! Di niente tesoro! È perfetto! Ok, ho messo tutto in valigia! Devo solo mettermi il cappello da vacanza! Bon voyage! Alla prossima! Saluti! Io me ne vado! Oddio, vorrei anche io andare in vacanza! Quanto sarebbe bello! Restarmene in spiaggia! Rilassarmi con un drink tropicale! Oddio, il vento sull'isola è molto forte! Sì, ehi, ehi! Stai di nuovo sognando ad occhi aperti! Oh, beh! Una bella vacanza sulla sabbia con quella brezza fresca! Oh wow, che idea che mi hai dato! Mettiamo un po' di tempera su questo coltello! Poi striscio e stop! Striscio e stop! Ecco qua! Non ho ancora finito, ma a breve finirò! E ora un po' di tempera verde su questo stuzzicadenti! Disegno un arco e poi delle pennellate sopra, così! E non dimentichiamoci la fine! Guarda qua, sono delle fronde perfette! Ok, ecco qua! Il mio paradiso tropicale è finito! Molto bello, devo dire! Wow, bellissimo! Come me l'ero immaginato! Ma manca qualcosa, sì! È tanto che non dipingo con le mani! A quanto pare non si scorda mai! Ecco qua, fatto! Ehi, la preside è tornata dalla sua vacanza! Abbiamo fatto questo paradiso insieme! Avete lavorato insieme! Ottima notizia! Alla vostra! Una per uno! Oh sì! Un assaggio di isola tropicale proprio qui tra le nostre mani! Ottimo lavoro! Anche tu! Abracadabra! Disegnerete! Bam! Roba da pazzi oggi! Rimbocchiamoci le maniche! Io inizio! Voglio solo tracciare le forbici al volo! Prima dentro... O intorno all'impugnatura? Ok, bene! Perfetto! Cosa sta facendo? Ora devo ritagliare tutto! Riuscirò a tagliarlo bene! Attento alle dita! Cos'è? Fa niente! Ma cos'è questa roba? Sta finendo sul mio disegno! Riesce a capire cos'è? Vive tra gli alberi? Ed esce allo scoperto solo di notte! Chi? Non è un chi, ma un cosa! È un bel gufetto! Non è carino? Ci sono quasi... È perfetto! Serve solo un po' di colore! Questi colori fluo sono fantastici! Sta venendo proprio bene! Ta-da! Interessante! Anche quello di Melanie è straordinario! Ottimo lavoro! Figo! Ma adesso chi pulirà questo casino? Ho i miei jeans! Accidenti! Sembra che abbia vinto Melanie! Stavolta ho buone sensazioni! Beh, che delusione! Pensavo fosse una challenge! Ok, stavolta che uso! Troppo grande! Nah, nemmeno questo! Questo è perfetto! Dovrebbe essere facile fare la zucca! È un cerchio arancione! Stavolta devo vincere io! Ok, questo va bene! Faccio prima le parti! Poi il picciolo! E ora lo coloro! Con una sfumatura e un colore diverso sarà ancora meglio! Sono soddisfatta! Che ne pensi? Ehi, svegliati! Ehi! Yuhu! Svegliati! Dobbiamo disegnare! Sono sveglia! Che succede? Ok, giusto! La zucca! Ottimo! È finito il tempo! Questo è il meglio che io potessi fare! Hai una cosa su una guancia! Davvero? Cosa? Oh, vernice! Ti sta bene! Oh sì! Qual è il premio? Succo di zucca! Non mi piace! Mi sento strana! Che succede? Ho una zucca in testa! Almeno hai già il costume per il prossimo Halloween! Odio questo gioco! Il mio viso! Il mio bel viso è tornato! Scusa! Mi sono spaventata di brutto! Non lo berrò mai più! Ehi! Lontana da me! Che sta tramando ora? Davvero non la capisco! Cosa ci fa con quegli asciugamani? Salve! Sì! E siamo ancora qui! Si ricorda di noi? Bene! Ecco qua un fenicottero! Oh! Un fenicottero! Ok! Dovrebbe essere divertente! Userò il mio metodo preferito e traccerò la sagoma della mia mano! Ok! Bene! E ora giro il foglio! Questo uccello ha bisogno di una testa e sicuramente un bel becco! Ok! L'occhio è andato! E ora le ali! E non posso dimenticare le lunghe zampe! E ora il colore! Senza rosa! Che fenicottero è? Sarà carinissimo! Quando avrà finito ne sono sicura! Ancora un po' di colore! Un altro po'! Un altro po'! E... Finito! Vediamo! Devo trovare le giuste proporzioni! Ecco qua! Ci sono! Posso iniziare? Ok! Una cosa del genere! Credo! Ok! Bene! Questo è un fenicottero! Credo! Io avevo proprio bisogno di un bel bagno rinfrescante! Cosa abbiamo? Oddio! Cos'è? Una specie di strano pollo? Ehm... Sì, stavolta sono d'accordo con lei! Il tuo invece è molto carino! Hai vinto tu la challenge del fenicottero! Congratulazioni! Sì, ho vinto tutto io! Ascolta, non sentirti triste! Condividiamo, ovviamente! Grazie! Mi sento molto meglio! Vediamo! Credo sia la prospettiva giusta! Ehi, nonno! Che ne pensi del mio dipinto? Ottimo lavoro! Buon uso del colore! Oh! Guarda questi! Mi servono! Ah, non ti servono i pennelli? Che stai facendo? Ho fatto con la vernice che ne pensi? Eh, va bene! Almeno credo! Non ho finito! Ora toglierò questo foglio di plastica... E guarda come viene! Dimmi che ne pensi adesso! Oh! Eh! Accidenti! È fantastico, nonno! Lo adoro! Ok, ho questo nastro e devo mettere un'estremità qui! Adesso comincio a disegnare! È più difficile di quanto pensassi! Ora mi serve questo colore, credo! Piano! Non voglio rovinare questa linea! Sta venendo malissimo! Ehi, aspetta! Il nonno ha del nastro! Ui! Lo prendo in prestito, nonno! Ho una bella striscia di nastro adesso! Devo solo aggiungere i pennarelli colorati così! Ripiegherò il nastro e lì terrò fermi! Sono sicuro funzionerà! Ed è ora di fare un bel arcobaleno! Sì! Ha funzionato! Sono un genio! Ottimo lavoro! E se potessimo farlo con tanti altri pennarelli? Guarda quanti! Chissà cosa potremmo fare! Sei sicuro che andrà tutto bene? Nell'arte è tutto un esperimento, ragazzo mio! Ecco qui, vediamo che abbiamo! E non dobbiamo fare un arcobaleno ad arco! Comincerò da qui e farò così! Poi passerò su quest'altro lato del foglio! Poi tornerò da dove avevo iniziato in questo modo! Fatto! Dai un'occhiata al capolavoro! Sembra un uccellino! Wow! Ehi, questo punto è perfetto! Sì? Gli alberi, la natura e tutto il resto! Diamoci da fare! Ci sto! Non so... Che cosa... Ehi, non guardare il mio! Come vuoi, bene! Mi metterò qua giù, allora! Cosa posso dipingere? Lo so, è adorabile! Spero che David non l'abbia visto! L'ho visto io per prima! Ah-ah! Che venga il migliore pittore di volatili! Alcuni cerchi possono fare molto! Devo solo sapere dove aggiungere le linee! Bello, vero? Basta un po' di colore per farlo scoppiare! Il giallo è un colore così allegro, vero? È perfetto per un uccellino così allegro! E che ne dici di un po' di verdi? Una tonalità così pacifica! Gli farò anche alcune piume blu! Farò prima i bordi! Così! Ci sta proprio bene, vero? Quasi fatto! Solo un paio di tocchi finali! Ed è così che si fa, agente! Un vero capolavoro! Non sei d'accordo? Sì, sono molto contento! Cos'è quello? Avevo solo bisogno di una mano! E ho capito che mi serviva una mano vera! Beh, una mano e alcuni puntielline quindi! Riesce a vedere la faccia dell'animale? Non preoccuparti, tra poco si vedrà! Questi rami ci stanno benissimo! Ed ecco i suoi adorabili piedini! Un po' di verde? Penso che ci stia bene! Riesci a vedere l'uccello ora? Sono così creativa, vero? Beh, se proprio vuoi vederlo! Non male affatto! Sono entrambi molto belli! Dovremmo chiedere all'insegnante? Sul serio! Spero che stia bene! Sembra che stia solo dormendo profondamente! Ehi! Oh, tutto fatto! Oh! Ottimo lavoro! Ora datemi solo altri cinque minuti! Va bene, come vuole! Pronta per la prossima challenge? Un cactus! Stavolta fallirai! Non credo, tu fallirai! Vai! Questo dovrebbe essere facile, devo rimanere carica! Non stressarti se tu che hai la penna! Ho quasi finito! Ce l'ho fatta! Ehi! Trova la differenza! È difficile, vero? Cos'è? Guarda e impara! Tampono la spugna sul foglio! Poi faccio i bordi con la spugna più piccola e ora la uso per i fiori! Poi devo solo aggiungere dei dettagli e devo incorniciarlo! Che ne pensi? Beh, sono tutti e due verdi! Non mollare! Questa non è nemmeno una gara! Wow! Un cactus gigante! Credi che dentro ci siano caramelle? C'è solo un modo per scoprirlo! Mi metto la benda! Ok, rompiamo gli indugi! Pazzesco! Guarda! Eh? Hai detto qualcosa? Ma dove è finita? Ehi! Bah, l'abbiamo persa! Che è successo? Ehi! Ma da dove vengono queste caramelle? Ok, penso di aver finito! Non voglio esagerare ma credo che sia un capolavoro! Lo metterò qui sul cavalletto! Ah, lo adoro! Oh, bolle di sapone! Penso di meritarmi una piccola ricompensa! Sì, guarda quante sono! Adoro le bolle! Ehi, sono tornato! Ups! Ho fatto cadere il dipinto! Era il mio capolavoro, il migliore che abbia mai fatto! Aspetta! Delle bolle! Ho avuto un'idea! Ho una bottiglia di plastica e taglierò la parte superiore! Adesso stenderò una piccola rete sopra e verserò del sapone in questa vaschetta di vetro! Dovrebbe andare! Adesso intingerò l'estremità della rete nel sapone! Ora il sapone si è attaccato alla rete! Aggiungiamo un po' di vernice, metterò blu, rosso e poi giallo! Tutti i colori primari! E iniziamo a fare le bolle! Devo restare molto vicino alla tela! E adesso faccio scoppiare le bolle più grandi! Eccoci! Penso di aver finito! Che ne pensi, eh? Wow! Come hai fatto? Ho preso ispirazione dalle bolle e l'ho fatto per te! Grazie, nonno! Lo adoro! È bellissimo! Le bolle sono fantastiche! Troppi alberi in questa foresta! Che ore sono? Santo cielo! Vediamo, sono tutti pronti per cominciare? Non mi sembra! Va bene, cominciamo! Ho qui dei compassi, tutti per voi! Ho bisogno che disegnate un cerchio che corrisponda a quello sulla lavagna! Venite qui, prendetene uno! Forza, su! Oh, accidenti! Non posso credere che dobbiamo fare un cerchio! Fate come vi ho detto e prendetene uno! Ehi, aspetta! Non ce ne sono più! Che diamine! Sta di nuovo dormendo! Che dovrei fare adesso? Che strazio! Come posso fare? Come faccio a disegnare un cerchio? Tutto quello che ho è questo righello! Non capisco come funziona! Questo stupido coso non funziona! Non riesco a disegnare un cerchio! Che diamine! Jake ne ha uno e non sa neanche usarlo! Che cavolo è frustrante! Ah, lo odio! Oh, anche lei non ci riesce! Ehi, so io cosa fare! Lo apro e basta! Perfetto! Ok, forse posso fare qualcosa con questo righello! Posso usarlo per tracciare una linea? Oh, no, non ha funzionato! Forse posso farlo senza il righello? No, non funziona! Avanti, righello! Ho bisogno del tuo aiuto! Ah, ho capito! Sul righello metto un segno ogni due centimetri fino alla fine! Grande! Quindi adesso farò un foro su ciascun segno! Perfetto, sono pronta a vedere se funziona! Appoggio il righello e poi metto una matita nel foro centrale! Devo solo girare adesso! Porterò la mia mano da questa parte e finirò il disegno! Sì, ha funzionato! Accidenti, hai fatto un cerchio perfetto! Ehi, mi ha portato il compasso? Era ora! Dita d'arte, comprate un quadro solo oggi! Accidenti, no, grazie! Oh, tutti mi dicono di no! Uno sconosciuto! Ah, aiuto! Calmati, che succede qui? Nessuno vuole comprare la mia opera d'arte! Nonno, ma che stai facendo lì? E che pensi di fare con quella spazzatura? Non ti fidi di me? Allora osserva! Metterò questo coperchio su un foglio di carta. Adesso un tocco di bomboletta spray. Voglio coprire tutto. Non avere paura di verniciare il coperchio. Adesso aggiungi un po' di vernice bianca qui nell'angolo. Devo riempire questo spazio. E adesso usiamo un sacchetto di plastica. Tampono il bianco con questo sacchetto. Ecco qui! Adesso lo macchierò con dell'altra vernice. Ed è ora di togliere il coperchio. Ecco qui, fatto! Tadà! Nonno, è stupendo! Non riesco a credere a quanto sia stato facile! Tieni, puoi averlo. Voglio quel dipinto! Prendimi i soldi! Immagina è così allegra. La devo incorniciare. E perché fermarsi qui? Ho solo bisogno di un po' di ispirazio... Esatto, hai detto cosa? Oh, Susan, sei terribile! Oh, non lo so! Accidenti! Oh, cosa... Scusami! Il mio foglio! Oh, colpa mia! Upsi! Guarda cosa hai fatto! È rovinato! Ehi, posso mostrarti qualcosa? Mai sentito parlare di un incidente felice? Beh, ora ce l'hai di fronte! Oh! Posso? Sì, puoi anche fare diverse dimensioni! Sorprendente! Facciamolo! Quanti cerchi potrò fare? Quanti ne vuoi? Le cose stanno diventando folli! Puoi usare praticamente qualsiasi cosa, basta che sia circolare, ovviamente! Pensi che ce ne siano abbastanza? Sembra davvero bello, vero? Donmi il cinque! Il mio piccolo artista! Ok, devo aggiungere giusto qualche linea qui! È finito! Bellissimo! Sicuramente qualcuno ci cascherà! Che bella giornata di sole! Sono contenta di essere uscita! Ma cos'è successo? Era solo un disegno! Wow! Ma che... È stato il mio disegno a portarci qui! Ehi, ciao! Benvenute! Wow! Ma che sta facendo? Oh, ok! Ora ho le studentesse! Iniziamo! Voglio vedervi disegnare un unicorno, ok? Bene, iniziamo! Beh, ma ce l'aveva in bocca fino a poco fa, questo spazzolino! Oh, no, 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 no! Spero non sia quello che credo! Bleh! Toglimelo di dosso! Beh, io nemmeno lo voglio! Oh, aspetta! In realtà mi sta dando un'idea! È ora di mettersi al lavoro sul disegno dell'unicorno! Ovviamente iniziamo con un po' di tempera colorata! Un bel arcobaleno è perfetto per gli unicorni! Ora userò questo spazzolino da denti per creare una bella criniera! Ok, non ho bisogno di uno spazzolino per realizzare il mio disegno! Userò un pennarello! Ok, ecco le orecchie! Il corno e ovviamente anche gli occhi! Oh, fammi vedere come sta venendo il tuo! Oh, ehm, è comunque qualcosa, no? No, sono pessima nel disegnare unicorni! Ehm, beh, devo tornare al mio lavoro! Oh, idea! È l'ora della bacchetta magica! Tadam! È apparso il resto dell'unicorno! Oh, bellissimo, com'è venuto! Viva me! Oh, che carino che è il tuo! Beh, dobbiamo sistemare il tuo ora! Ho un'idea! Premo solo il tuo disegno sul mio! Visto? Ora abbiamo un duplicato! Ehi ragazze, direi che abbiamo finito! Ma ragazze, sono pazzeschi! Sono stupita! Sì, ce l'abbiamo fatta e abbiamo vinto entrambe! Alla nostra! Allineerò la prospettiva... Va bene, credo di aver finito! Devo fare il confronto con l'originale! Oh, non va affatto bene! Eccolo! Gli farò una sorpresa! Lo adorerà! Quello cos'è? Fa schifo! Temo che non sia molto contento! Oh, guarda quelle luci laggiù! Ah, mi è venuta un'idea! Ho questa cornice e devo aprirla! Adesso ho queste piccole luci! Le metterò dentro la cornice così! Fatto! Adesso rimetto a posto la parte posteriore! È fantastico! Nonno! Luci in scatola? Che significano? Oh, nonno, vieni! Lascia che ti mostri! Scatta una foto e mettila sopra il vetro! Oh, capisco! Oh, guarda come brilla! Ho capito! Serve per tracciare i disegni! Adesso ricrea l'immagine! Ok, faccio un tentativo! Devo solo tracciare tutte le linee... Funziona! È stato facile! Devo solo finire i piccoli dettagli così? Ecco, credo di aver finito! Finalmente un capolavoro! Mi serviva soltanto una cornice e delle luci! Grazie per il regalo! Prego! Vediamo su cosa stai lavorando! Non so, mi sembra manchi qualcosa proprio qui! Oh, ma che fai? È il mio quadro, non ci vogli pesci! Ma che dici? In questo quadro servono dei pesci! Beccati questo, te lo meriti! Ah, sì? Allora tu beccati questo! Oh, e va bene! Tutti vecchi in rosa! Bene! Allora tu il verde, Grinch, che non sei altro! Sei tremendo! Dovrai prima vincere contro il mio rullo! Oddio! Ma che succede qui? Ma non ci credo! Filate dritti nella challenge, nella scatola! No, no, no! Dai, corri più veloce che puoi! Eh? Oh no! Siamo bloccati nella scatola! Non c'è tanto da fare qui, eh? Sì, ma questa pausa non mi dispiace, stai! Mi piacciono queste caramelle! Oddio, cos'è? La preside è qui! Ok, fate attenzione! Voglio questa cover pop it, ok? Ok, ecco! Ho anche le sagome bianche per voi! Sagome? Oddio, non sembra molto divertente! Ma ti batterò, questo è certo! Beh, vedremo! Già mi è venuta un'idea geniale! Oh sì, le caramelle sono sempre la soluzione! Inizierò mettendole sulla sagoma! Devono essere tutte allineate in modo preciso! Ok, poi riempio tutta la forma della cover! Ora sì che si ragiona! Beh, si può essere intelligenti anche in due, no? Ho questo mini mattarello che mi farà vincere, che bello! Ah, ho fatto la rima! Ok, ora mi serve la tempera! E ora disegno dei po' arancioni sul mattarello! Uno dopo l'altro in linea! E poi il prossimo colore! Uh, questo blu è così luminoso, lo adoro! Il blu potrebbe essere il mio colore preferito! Ok, i puntini sono fatti, ora posso farlo ruotare! Ah, guarda qua, ha funzionato alla perfezione! Ehi, signora preside! Ho finito la mia opera d'arte! Ah? Ah, sì, giusto, l'opera d'arte! Fatemi vedere un po'! Va bene, va bene, ho visto! Bello, sì! E tu, invece? Oh, certo! Rimarrai impressionato dal mio lavoro! Oh, cavolo che scemo! Non ci credo, l'ho fatto davvero! Ma l'avevo fatto, giuro! Ok, va bene, ti credo! Ma non puoi vincere, vince lei! Ho vinto un telefono! Ma pazzesco! Grazie mille! E ora posso giocare con la cover pop-it! Uh, posso anche ordinarmi da mangiare! Sì, una pizza grande, grazie! Oh, che rapidità! Servizio eccellente! Sì! È l'ora della pizza! Ho una fame! E ha un aspetto fantastico! Oh, aspetta, ancora è dispiaciuto! Ehi, mi sono ordinato una pizza, ne vuoi un po'? Oh, certo, come no! Grazie mille! Bene, non c'è nessuno in giro, è ora di uno spuntino veloce! Wow, caramelle, le voglio! Ah, certo! Le hanno prese tutte! E io non ne ho più! Ne avevo così tanto bisogno! Oh, della gomma! Non vedo l'ora! Quella è gomma! No, aspetta! È mia! Ma perché continua a succedere? Che strazio! Ok, comportati in modo naturale, nessuno sta guardando, sarò veloce! Sento odore di patatine! Devo averle! Oh? Devo solo fare molto piano! Non sarà niente! Vai, vai, vai! Ma che... Torna qui! Oh? Ma è vuoto! Oh! Aspetta! Penso di avere un'idea! Comincerò tagliando il tubo a metà! Poi lo coprirò con della bella carta! Mi piace! Lo riempirò a metà con le mie caramelle preferite! E poi inserirò il coperchio di plastica! Metterò le mie matite sopra! E sembra un astuccio! Ma dentro c'è un gustoso segreto! È la mia occasione! Se tiro sulla carta posso avere le mie caramelle! E nessuno se ne accorgerà! Sono solo matite! Pensavo avessi delle caramelle! Ci è mancato poco! Ma... Funzionato! Dai, dobbiamo scrivere i nostri nomi! Aspetta, voglio scrivere prima il mio! Spostati! No, c'erò io per prima! Questo è il mio spazio! Ah, come vuoi! Nessuno ti voterà! Uh, candidature per la reginetta del ballo! Iscriviti con me, dai! Ok, come vuoi! Facciamolo! E se una di noi venisse incoronata reginetta? Fammi solo tirare fuori la penna! Sono pronta a firmare! Oh, accidenti! Non funziona! Oh, aspetta! Ho un'idea! Ho una banana nella borsa! Aspetta, non è quello che volevo! Fammi provare di nuovo! Eccoci qui! Questa volta ci sono! No, aspetta! Non è quello che cercavo! Mi spiace, ma ci vorrà un po' di tempo! No, lo so! Anch'io ho visto quell'episodio ieri! Oh, che diavolo è stato! Va bene, basta! Svuoto tutta la borsa! Aspetta, hai un altro succo di frutta! Ehi, in realtà penso che mi sia venuta un'idea! Prenderò questo cartone vuoto e lo taglierò! Adesso rimuovo la parte superiore e con le forbici taglio lungo tutto l'angolo. Arrivo fino all'altra estremità del cartone. Ripeto lungo gli altri angoli così posso aprirlo in questo modo. Non voglio che assomiglia un cartone per il succo, quindi lo coprirò con questa carta. Lo capovolgo e tiro fuori la colla stick. Ricopro tutto lo spazio con la colla così. Perché voglio aggiungere questa striscia di carta arancione? E ora è il momento della colla a caldo, perché la colla stick non è abbastanza forte. Ne aggiungo dell'altra, ma ruotata in questo modo. Adesso metto altra colla a caldo questa volta sulle punte. Devo solo attaccare questo piccolo elastico e... incollerò poi delle strisce magnetiche. Ta-dan! Ho realizzato un astuccio. Nell'elastico posso metterci i pennarelli. E qui posso mettere alcuni post-it e qui le mie graffette. Quando tutto è pieno lo posso ripiegare. Prima la scatola interna e poi quella esterna. E ora posso aggiungere il nuovo coperchio che ho tagliato prima. Ehi, guarda che ho fatto! Ah, che cos'è? Posso aprirla? Ok. Wow, non può essere! Vedi? Adesso puoi trovare tutta la cancelleria. E io posso iscrivermi per diventare reginetta, ecco. Oh, guarda tutte le attenzioni che sto ricevendo. Non esiste! Quello è l'astuccio più bello che abbia mai visto! Ok, avanti con la prossima sfida. Oh! Disegnate delle giraffe! Ma come posso fare questo? È semplicissimo! Potrei farlo a occhi chiusi. Ok. Cominciamo dalla testa così. Poi qualche altra linea. Ci sono! Ma prima una pausa. Che freschezza! Quanta gente in giro! Ho avuto la giusta ispirazione. Prima disegniamo quattro numeri. Ma guarda che carina! Ed ecco un cigno! Una bella farfalla. E un pesce. Adesso li coloriamo tutti. Carino, vero? E che eleganza questo cigno! Ci vuole anche l'acqua. Una farfalla rosa. È adorabile! Ma occupiamoci del pesciolino adesso. Così! Ok ragazze! Tempo scaduto! Ho disegnato quattro animali. Giraffe inclusa, si capisce! Bravissima Madison! E tu, Annie? È solo un secondo, ok? Ho quasi finito. Quasi finito. Com'è? Interessante. Non assomiglio a una giraffa. Vorresti creare una bella opera d'arte ma non sai come cominciare? Non preoccuparti, abbiamo dei trucchetti utili per trasformare le tue idee in veri capolavori. Facciamo fluire la creatività. Ok, sto per darvi la prossima consegna, quindi fate attenzione. Un cono gelato. Posso farcela. E ora userò le mie capacità di artista per fare un bel disegno. Ho finito il gelato e il cono e ora lo decoro un po'. Ecco qua, carinissimo. E ora si colora. Ma voglio renderlo ancora più bello. Ok, vediamo se funziona come dovrebbe. Iniziamo col blu. E ora il viola. Devo fare la parte intorno agli occhi e finisce con rosa. Proprio come avevo pianificato. Ottimo! Questo sì che è un fantastico cono gelato. Ok, meglio lavorare anche sul cono. Mica posso lasciarlo così, sarebbe noioso. Giallo per un bel contrasto, sì. Oh, come diavolo ha fatto? Fantastico! Meglio ricontrollare un attimo come tenerlo. Sì, ottimo. Anch'io voglio fare una cosa così bella. Vediamo. Oh sì, ecco cosa mi serve. Scusa. Ciao, potrei avere il tuo cono? Eh, non ti conosco, quindi no. Ma mi serve davvero tanto. Ma che fai? È mio! Lasciami andare, lasciami in pace. Oh! Tac, scusami, mi dispiace sul serio. Ok, sono tornata. Meglio se mi metto subito al lavoro. Userò questo scotch carinissimo per tenere fermo il cono. me ne serve un altro. Ne metto un altro pezzo qui. Ecco qua. Così si tiene bene. Perfetto. Signora preside, ecco la mia opera d'arte. Ah, già? Non male, ma conta come arte? No, non credo. Ehi, fammi vedere quello che hai fatto tu. Oh, ok, beh, è più simile. Molto carino e colorato. Ecco il tuo premio. Wow, mi stava venendo fame, tra l'altro. Adoro i gelati. Oh, quanto è freddo, però. Aspetta, ma che... Aiuto, sono congelato. Eh? Ma che ti succede? Oh, mi sa che quel gelato era freddissimo. Ups, ecco qua. Ups, speriamo sia bene. Ah, la mia cotta mi è ispirata. Spero che lo apprezzi. Tanto vale provare, no? Sì, forza. Che succede, David? Figo, cosa mi ha scritto? Sì, mi piace molto. Spero che mi risponda. Vediamo. Oh. I miei libri. Scusa, lascia che ti aiuti. Oh. Così morbide. Aha. Wow. I miei libri? Oh, certo. Quindi... Sì, grazie. Penso di essermi innamorato. Aspetta, solo un'ultima occhiata. Sì, mi piace proprio tanto. Oh, ecco cosa metterò. Voglio ricordarle del primo momento in cui ci siamo visti per la prima volta. La parte difficile è questa qui. Ed è finita. Bene. Wow. Mi ricordo. Che tesoro. Ti amo, piccola. Ero tipo più più e poi mi sono svegliata. Ehi, non si parla in classe? Scusi, prof. È l'ultima volta che ve lo dico. Annie, usiamo i telefoni. Ottima idea. Così almeno non parliamo. La prof non ha menzionato i telefoni. Sì, che buffo. Aspetta, qualcosa non va. Niente telefoni, li prendo io. Ma non è giusto. E adesso come facciamo? Che scatole. Aspetta, penso di avere un'idea. Mi servono solo questi post-it. Li taglierò in un quadrato molto piccolo. Aggiungo degli adesivi. E li inserisco nella mia custodia del telefono. Sembreranno delle app. Ho ritagliato un quaderno della stessa forma del mio telefono. Lo metterò nella custodia. Aggiungo anche alcuni messaggi. Sembra un telefono vero. Psst, Naomi. Prendi. Wow, è fantastico. Devo rispondere. Possiamo finire la chat. Chi ha bisogno di un telefono? Ragazze, che state facendo? Sto solo prendendo appunti. Mi piace quello che vedo. Se volete andare al capitolo 10... Devo fare una foto. Annie, guarda! Com'è brutta! Dovremmo postarla. I risultati del test. È uno scherzo! Forse posso cambiarlo. Non ha funzionato. E adesso come faccio? Un 4. Forse posso raschiarlo via. È ridicolo. Pensa... Ci sono! Mi servono questa pistola a caldo e un bastoncino di colla, sì. Metterò un po' di colla all'estremità e lo premerò sull'inchiostro. Spingerò per qualche secondo ed è venuto via. Sono un genio? Beh, forse no. E adesso mi darò un voto alto. Mi merito un bellotto. Guarda un po'. Ti credi di essere così intelligente e ti metti sempre in mostra? La prossima volta dimmi le risposte. L'azione per il progetto artistico fa parte del processo, anche se può essere disordinato. Dunque, è ora di trasformare questa idea in arte. La prima pennellata è sempre la migliore. Aggiungo un po' di blu qui. Sta davvero venendo bene? Oh, lo è? È terribile! No, meno male che ho dell'altra carta. Oh, bene! Ma è peggio del primo! Forza, adesso concentrati! Mi stai prendendo in giro. Perché non riesco a dipingere uno stupido fiore? Va bene, stai calmo. Respira profondamente. Posso farcela? Posso farcela? E vado! Piano! Piano! E ci! Oh, che sfortuna! Ma aspetta un attimo! Che forma interessante! Posso farci qualcosa? Usare il pennello in diversi modi può aiutarti a creare dei disegni del tutto unici. E nel mio caso dei petali. Una volta finiti questi bellissimi petali, bisogna aggiungere un po' di verde per le foglie e gli steli. Vedi come viene? Bisogna fare molta attenzione. Adesso uniremo questi due. Sono venuti davvero bene! Sapevo che ce l'avrei fatta. Wow! Hai disegnato tutto questo da solo! C'è per te, Annie. Posso farne degli altri. E questa volta adotterò un approccio molto nuovo. Non preoccuparti, il tema è sempre lo stesso. Vedi come diventano delle foglie che... Sembrano vere? Proprio così. Non avere paura di prendere il tuo tempo. Puoi fare anche dell'erba, vedi? Ma la parte successiva è più complicata. Userò questi colori per creare delle trame divertenti. E tutto... Grazie a questo palloncino! Non è soddisfacente? Lo userò come un timbro e otterrò questi fiori divertenti e del tutto unici. Non devo dimenticarmi questo. Bello, vero? Stupendo! Che ne pensi? David, come ci sei riuscito? Il mio ingrediente segreto! Ah? Oh, questo... Ehi, guarda! Finalmente un pop it wow! Questa è la migliore finora! Voglio farlo perfetto! Prima disegno un quadrato. Poi i cerchi! Ho un'idea migliore! Per fortuna ho questa fotocopiatrice a portata di mano! Ok, pop it, vai! Faccio una copia! Non avrei potuto fare di meglio! Come sta andando? Perfetto! Devo solo colorarlo ora! Oh, divertente! Faccio una linea di vernice qui. E ora il resto è come un arcobaleno! È proprio come un pop it e voglio premerlo! Ottimo lavoro! Stavolta mi sa che ho vinto! Non ci credo! Ce l'ho fatta! Spero scherzi! Guarda il mio! Si allontani dal tavolo, signora! Mi mostri la mano! È l'altra! Non opponga resistenza! Usare una fotocopiatrice non è disegnare! Prendiamo molto sul serio chi imbroglia qui! Scusi! Pensi di conoscere qualcuno e invece... Wow, un pop it di cioccolata! La mia preferita! Deliziosa! Lei se ne va al fresco! Forza! Oh oh! E vabbè! Ok ragazzi, fate attenzione! Questo sarà nel test... Sì! Così mi piace, Madison! Ha detto qualcosa? Sono troppo concentrata sul gioco! Madison è così brava! Sì, me lo dicono spesso! Ora perderai! Ma è impossibile batterla! Ma ci proverò! Allora, qualcuno può rispondere a questa domanda? Ragazzi? Bella lezione, prof! Grazie, almeno credo! Non me l'aspettavo! Amo questo gioco! Andiamo! Non posso lasciarla vincere! Qualcosa non va! Per fortuna sono venuto preparato! Sembro proprio io! E ancora distratto! Continuo a giocare! Come pensavo! Aspetta, ho vinto! No, c'ero così vicino! Mi verrà un livido! Oh, ecco dove è andato il tasto! Devo aggiustare la tastiera e spegnere il gioco! Ma come? È così complicato! No, non funzionerà! Non male, però ho avuto un'idea! Userò la plastilina per creare un piccolo hamburger sul tasto! Ci aggiungo anche il formaggio e poi il pane! Lo metterò sulla tastiera! Perfetto, funziona! Ok, fa finta di niente! Oh, cosa... Che è successo? Aspetta! Il gioco era proprio lì! Gioco, sta bene! Stiamo facendo i compiti! Devo aver davvero sbattuto la testa! Scusate ragazze, proseguite! Ci è cascato alla grande! Giochiamo! Oggi abbiamo una nuova studentessa che si unirà a noi! Date il benvenuto a Madison! Ehi! Troviamoti un banco! Non qui, non qui! Dove puoi metterti? Oh, sediti accanto ad Emma! Grazie! Grande, io qui non la volevo! Ciao, vicina! Sono Madison, siamo compagne di banco! Wow, sei molto intensa! Lascia andare la mano! Com'è emozionante! Adoro fare nuove amicizie! Voglio sapere tutto di te! Qual è il tuo cibo preferito? Meno male che la lezione è finita! Hai animali domestici o un gatto si chiama Missens? Ho preso queste per te, Emma! Leo, grazie! Dovremmo uscire dopo! Emma, pensavo di averti presa! Ma dove è andata? Accidenti! È andata via, accidenti! Mi nasconderò qui per un po'! Dove è andata? Deve essere qui da qualche parte! Dove mi nasconderei? Ah! Finalmente un po' di pace! Aspetta! Ehi, amica, perché sei qui? Non c'è scampo! Non riesco a liberarmi di lei! È ovunque! Aspetta! Penso di sapere cosa fare! E ho solo bisogno di questi auricolari! Tirerò il filo dentro la manica, poi li metterò nelle orecchie! E li coprirò con capelli e mani! Posso ascoltare la musica e Madison non lo saprà mai! Ciao, Emma! Che fai a pranzo? Pace, finalmente! Oh, che rottura! Odio studiare! Non capisco nemmeno queste equazioni! Basta, mi arrendo! Non sono brava in questa materia! Che diavolo è quello? È un peluche! Per te? Vuoi giocare? Mi dispiace, non posso! Devo studiare e finire di fare i compiti! Vorrei tanto dormire! Sono così stancho! Ops! Mi sono addormentata! Devo riuscire a finire! Che sta succedendo? Dove sono? Questo è il peggior test che abbia mai visto! Mi sono addormentata mentre studiavo! Fallerò al test! Giorno, ti piace il mio palloncino? Vuoi giocare con me? Vedi? Ho aggiunto un nastro al mio palloncino in modo che non voli via! Ehi, forse posso farci qualcosa! Ho un palloncino! E adesso ho bisogno di questo pennarello! Ci scrivo sopra le equazioni! Devo solo sgonfiare il palloncino! E ora che è piccolo ci passo sopra un pezzo di scotch! Tengo fermo il palloncino, tolgo lo scotch e lo metto sull'unghia! Ci sta perfettamente! Bene! Adesso posso superare questo test grazie alla mia unghia! Nessuno se ne è accorto! Sono così intelligente! Fammi vedere se sta barando qualche foglietto! Bene! Fammi dare un'occhiata da vicino! Mi serve la mia torcia! Guarda, mi apri bene la bocca! Bene, puoi andare! Sono felice che non stai barando! Oh, ci è mancato poco! Ma sono la migliore! Aspetta, lo sapevi che c'era un test? Chi è quel tipo inquietante? Ho quello che ti serve! Matematica, inglese, risposta molti di... Mi hai convinta! Prima i soldi! Ovviamente! Fammi vedere cosa! Penso che queste saranno sufficienti! Ecco qui alla moda e ci sono tutte le risposte! È fantastico, grazie! Un altro cliente soddisfatto! Ciao, puoi aiutarmi? Con il tuo stile non faccio mica miracoli! Come sono emozionata! Questa è la gomma più intelligente che esiste! Molto meglio che studiare! Devo comprare anch'io le risposte e devono esserci delle caramelle! Con questa non otterrò molto! Mi scusi, che cosa posso ottenere con questa? Ah, mi fai morire! Vattene via! Andro via come un ninja! Perché non cammino? Perfetto, e adesso come farò? Aspetta, ho avuto un'idea! Vale la pena provare! Metterò la custodia sullo schermo, così posso scorrere tutte le risposte! Sono pronta! Non potrete imbrogliare, non nella mia aula! Devo nasconderla! Vediamo cosa dice lo scanner e rivela imbroglioni! Non va bene! Lo sapevo! Stai imbrogliando! Con una gomma! Sono disgustata! Dovrei farlo a ogni testa! Che cosa abbiamo qui? Nessuno può battere il mio scanner! Stai usando un cappello per nascondere le risposte? Oh, fregata! Finora tutto ok? Oh, l'insegnante sta arrivando! So che troverò qualcosa! Per favore, non suonare! Deve essersi rotto! Vedi, non sto barando! Che brava ragazza! Mi arrendo! Ok, per la vostra ultima challenge ho disegnato una farfalla! Ok, posso farlo! So che posso! O forse... No! Aspetta, no! Ho un'ottima idea ora! Dovrebbe funzionare! Inizierò tracciando la forma di questo rotolo di scotch! Ottimo! Ok, dovrebbe andar bene! E ora me ne serve un altro qui! Non è difficilissimo, devo dire, ma comunque non voglio fare danni! Oh, così! Cosa? Che sta facendo? Oh, ce l'ho! Intelligente! Ma mentre lei fa quello, io faccio il mio! Ecco l'immagine carina della farfalla che vuole che disegniamo! Posso mettere il foglio sopra il tablet e ora tracciare la sagoma così! Ali fatte! Ora corpo e testa! Oh, le antenne! E ora rendo bellissime le ali! Questo giallo e rosa stanno benissimo insieme e mi piacciono molto! Wow! Davvero, l'ho fatto io! Stop! E ora fatemi vedere i vostri disegni! Ok, bene, io sono partita da un bruco! Oh! Bene, in realtà è una vera immagine di una farfalla! Bel lavoro! Sì, ma guarda! Ha fatto una metamorfosi! Oh! Beh, questi colori mi hanno impressionato! Avete vinto entrambe! Sì, adoro quando vinciamo entrambe! Bellissimo! Guarda, abbiamo le gomme stavolta e non dobbiamo nemmeno dividercele! E vai, abbiamo vinto! Quale vorresti disegnare? Diccelo nei commenti e non dimenticare di condividere questo video con i tuoi amici e iscriverti al nostro canale per altri fantastici video come questo! Non posso fare tardi a lezione e il tempo sta per scadere! E sono così vicina! Accidenti! Guarda quanti ostacoli! Ma niente, mi rallenterà! Arriverò al mio banco prima che suoni la campanella! Sono una macchina da guerra e da studio! Facciamolo! Carica! Ehi! No! Ho letto quel libro! Ce la farò! Niente può fermarmi! Manca così poco! Oh no! Ora della lezione! Spostati! Non riesco a fermarmi! Non credo finirà bene! Come farò? Che dolore! Non riesco a trovare i miei occhiali! Dove sono? Perché è tutto sfocato? E tu chi sei? Ci servono i nostri occhiali e questo potrà aiutarci! Inizio applicando della colla su un fiammifero, poi aspetto se asciughi! Perfetto! Adesso posso accenderlo! Lo lascio bruciare così la colla si ammorbidisce! Poi lo strofino sulle aste rotte dei miei occhiali! In questo modo le due parti si fisseranno insieme! Ora stiamo bene! Ancora più importante possiamo vedere! Che ore sono? Siamo in ritardo! Levati! Oh, Mr. Kitty! Sei il mio preferito! Sì, sì! Ho giusto la challenge! Disegnate Mr. Kitty, direi! Ok! Adoro disegnare gatti! Amo i gatti in generale! Sarà bellissimo! Ma che fa? Sta scrivendo la parola gatto! Cosa? Oh mio Dio! Vinco io sicuro! Ok, ora sfodero la mia abilità nel disegnare gatti! Inizio con un cerchio! Ci sono gatti tondi, certo! Specialmente se ero tondetto! Come continuo! Ora trasformo la parola in qualcosa di meglio! Inizierò con questa piccola faccia e non dimentichiamo le vibrisse! Ok, la testa è fatta! Una linea continua per la schiena e la coda! Carino! Wow, ottimo lavoro! Vediamo i vostri gattini! Ta-da! Ecco il mio! Ebbene, credo che questo sia il mio! Mi sono distratta! Oh beh, non puoi vincere con un'opera d'arte incompleta, quindi è chiaro che è la vincitrice! Wow, ce l'ho fatta! Io e il mio gattino abbiamo vinto un altro round! Sì, biscotti! Amo i biscotti! Giriamo di nuovo la ruota! Ah, che belli i cuori! Abbiamo dei modelli perfetti! Uno, due, tre, vai! Quanto è bello! Il mio cuore è tutto suo! È il mio David! Il tuo David! Cavolo che imbarazzo! Ragazze, non litigate, su! Ci sarà un modo per risolverla! Ehi! Non mi lasciate altre scelte! Non è più così bello, eh? Spiacente, ragazze! Lui è mio! Aspetta, me lo ricordavo diverso! Oh no, non mi piace più! Oh! Il suo sorriso è diverso! Ma non mi piace giudicare! Ah sì! Annie? C'è David lì! Come sto? Dov'è? Ah, fregata! Ma non lo vedo! Dov'è? I miei pennarelli! Madison, li hai presi tu? Non si fa così, sai? Prova a rubarle le cose adesso! Madison è pietrificata! Vabbè, questi sono miei! Grazie! Stiamo disegnando cuori, no? Per disegnarlo bene, Mettiamoci attorno un rettangolo Poi facciamo delle righe E delle curve nel cuore Così Possiamo usare vari colori Adesso esaltiamo il contorno Per farlo vedere bene Ora sull'altro lato, così E usiamo il bianco per la lucentezza Ok, il mio cuore è finito Ed è in 3D Adesso puoi svegliarti Ma non ho disegnato nulla Davvero incredibile, Annie! Che bello! Mi dispiace per il furto, scusa È per me? Grazie! Beh, finché ho David E adesso? Un cubo di Rubik Qui c'è da riflettere Un righello e una matita Ah, ci sono! Il righello può aiutarmi a fare le linee dritte Questi angoli lo rendono 3D Cosa sta facendo, Nick? Come ho fatto a farlo così figo? Devo girare il foglio? Beh, è un po' più complicato di così Con l'ombreggiatura giusta Sembrerà tutto più dinamico Vedi? La matita fa un bel contrasto Quasi fatto! E ora? Un'ombreggiatura molto leggera Quasi non si vede L'ombra dovrebbe farlo risaltare Sì! Ma come fa? Sembra uscir fuori dal foglio Che figo! Pronto a giocare? Ecco! Occhio! Oh, voglio provare! Guarda un po' Questo cos'è? Si muove Wow! Ben fatto, Nick! È come se mi venissero incontro! Fammi avvicinare Guarda! Ma che combina? Ah! Guarda come volano questi colori! Non ti gira la testa? Un altro po' E... Fatto! Oh! Oh no! Cosa? Ce l'ho sul viso? È un look astratto! Non ho mai visto una cosa simile! Che bel sonno! Che ore sono? Oh no! Sono in ritardo per la scuola! Devo sbregarmi! Prenderò dei vestiti Forse ne ho troppi! La mia testa! Almeno ho risparmiato un po' di tempo! Buongiorno, mamma! Ecco la tua colazione! Come ti sei conciata! Eh, scusa, mamma! Devo andare! Che ragazza strana! Oh no! Non di nuovo! Non posso farlo tutti i giorni! Buongiorno! Devo andare, mamma! Ma cosa si è messa? Quella ragazza deve vestirsi meglio! Questa stanza è un disastro! Ci sono vestiti ovunque! Devo fare tutto io? Ho avuto una grande idea! Tirerò fuori questi vestiti! E metterò questo organizer! Le cose sono già più ordinate! Un outfit per tutti i giorni! Ecco, la mamma sa sempre che fare! Sveglia! Devi andare a scuola! Che cosa? Stavo facendo un bel sogno! È ora di vestirsi! Ta-da! Forza! Ok, sono sveglia! Guarda, è tutto pulito e ordinato! Mamma, wow! Vedo tutti i vestiti! E sono già tutti abbinati! Che bella idea! Questo mi sta benissimo! Oh no! È ora! Sei così sciocca! Ti auguro una buona giornata! Grazie, mamma! Sei la migliore! Mmm, so la risposta è... Fatto! Oh? La mia matita si è rotta! Ecco cosa mi serve! Devo essere furba! Che stai facendo, Nio? Gelosa? Ah, quanto mi diverto! Situazione ambigua, ok! Comunque... Dove ho messo il temperino? No! Qualcosa qui sotto! Solo un sacco di gomme! Come farò? Au! C'è qualcosa nella mia scarpa! Che cos'è? Il temperino! Sapevo di averlo messo in un posto sicuro! Quell'odore viene dalle mie scarpe! Puzzano da morire! Ma almeno il mio temperino! Aspetta! Ho avuto un'idea! Mi serve un po' di gomma! Perfetto! Credo che funzionerà! Metterò la gomma sul mio anello... E quindi ci attaccherò il temperino! Non lo perderò più! Ne ne! Ah, che figo! Ed è comodo! Adesso posso finire i compiti! Luna! Non farlo! Ciao! Ok, vieni qui! Devo fare i compiti, ok? Ok! Io mi metto a disegnare! Va bene! Wow, che bel disegno! È una casa! Ho quasi fatto! Anch'io! Guarda, Luna! Che stai facendo? Oh no! E non sono stata io! Ha su tutti i miei libri! Scusa! Però è bello! È tutto rovinato! Guarda! Come faccio adesso? Aspetta! Questo inchiostro potrebbe tornarmi utile! Ora penso di poter coprire tutti questi disegni! Intanto posizionerò della carta sul quaderno, quindi userò dei pennarelli per creare dei motivi sulla carta così. Per un effetto più vivace userò colori diversi. Mi piace, ma non ho ancora finito! Prenderò un sacchetto di plastica e ci verserò dentro l'inchiostro. Bisogna fare attenzione a non farlo fuoriuscire! Una volta fatto, sigillo il sacchetto e lo posiziono sul quaderno. Stendo l'inchiostro. Prendo del feltro e ritaglio un bordo per il quaderno. Devo solo attaccarlo al quaderno e divertirmi adesso. È un ottimo modo per passare il tempo quando ti annoi. Che bella idea! Non sto facendo niente, giuro! Ehi! È tutto ok! Aspetta! È per me! Certo! Ah, com'è divertente! Guarda, sto facendo delle belle forme! Grazie, Luna! Sto cercando di arrivarci! Non è colpa mia se sono troppo bassa per arrivarci! Devo prendere il mio astuccio! Odio essere così bassa e non riesco a raggiungere niente! Non vedono che sto cercando di leggere? Ok! Oh, eccola! Ciao, Essie! Oh, ciao! Come va? Oh, wow! Sei davvero molto alto! Ciao lassù! Beh, mi piace così tanto! Posso baciarti! Eh, puoi andare un po' più veloce? Sono qua giù! Avanti! Ok, mi serve questo megafono! Devi chinarti di più! Forse se uso l'okulele! Forse se uso l'okulele non funziona niente! Aspetta! Ci sono delle matite qui! So io come usarle! Mi serviranno anche le infradito! Toglierò le cinghie! Metterò un goccio di colla a caldo! Adesso metterò una matita così in verticale e tutte le altre! Ora posso semplicemente attorcigliare questo nuovo cinturino che vedete qui! Ta-dan! Ora ho dei bellissimi sandali con la zeppa! Devo solo indossarli e vedere se funzionano! Sì! Ora posso avere il bacio che stavo aspettando! Aspetta! Mi prendi in giro! Non è passato così tanto! Sveglia! Fa nulla! Facciamo finta che non sia successo! A cosa sono sveglio! Ah, giusto! Il bacio! Eccomi! Credo di essere ancora pronta a baciarti, sì! Hai qualche consiglio per rendere la scuola più semplice? Faccelo sapere nei commenti! Ricordati di condividere il video con i tuoi amici e di iscriverti al nostro canale per altri video come questo! Ok ragazzi, oggi c'è un esame! Spero che abbiate studiato! Andrà malissimo! Questa la so! Non va bene! Dovrò provare a indovinare! Tanto vale! Ah, com'è complicato! Penso di aver bisogno d'aiuto! Che fai? Eh, no! Non è come sembra! Lo prendo io! Non è andata come mi aspettavo! Ok, è ora del piano B! Oh no! La prof arriva! Devo nasconderlo! Mmm, ti sto guardando! Occhio! Sì, eh! Non hai visto il fogliettino, però! Mi devo sbrigare! È un disastro! Devo provare qualcos'altro! Aiuto, aiuto! Mi servono risposte! Oh, bene! Sul serio? Sta barando di nuovo? Hai capito? Bene! Il prossimo è 45! Oh! Salve! È un piacere vederla! Da qui! E aspetta! Naomi! Sono guai! Jared! Cos'è successo alla tua voce? Non credo sia già a Jared! Non potrai mai superarmi in astuzia! Conosco ogni trucco che ci sia! Pronto? Com'è cattiva! E ora come faccio? Lo so! Ho finito le dita accidenti! Meno male che ho i piedi puliti! Ok, dov'ero? Che sta facendo? Ah, ahm, Naomi? Le dispiace, sto facendo l'esame! E io ho fatto! È stato divertente! Ecco a lei, prof! Wow, che velocità! Annie! Mi puoi aiutare? Certo, guarda qui! Devi moltiplicare i numeri per due! Proprio così! Quindi aggiungi il separatore decimale! È così semplice! Wow, è stupefacente! Grazie! Avrei voluto conoscere questo trucco prima! Fatto! Posso consegnare il foglio! Ora sì che mi diverto! No! Non può essere! Hai preso un otto! Sono un genio! Sappiamo che la scuola può essere dura! Insomma, tanto studiare, i compiti in classe... Non ci si diverte mai! Ma è qui che entriamo in gioco noi! Siamo qui per aggiungere un po' di magia! Sai, ho sentito parlare di incredibili creature magiche! Ho sentito! Great, grumpi, grumpi! Non ti piacerebbe incontrare un vero unicorno? Che domande, certo! Allora andiamo! Guarda quanti colori! È quel suo corno magico! Che succede? Che succede? Wow! Ehi! Ma dove ci troviamo? Guarda questi vestiti! Sono carina tutta rosa! Io adoro il blu elettrico! Madison, guarda! Guardatemi, ragazzi! Vi piace il mio luccichio? Allora ho la sfida giusta per voi! Siete pronti? Siamo nate pronte! Cosa disegneremo per cominciare? Mia! Adoriamo i gatti! Sono i più carini di tutti! Ragazzi, dovete disegnare! Allora il mio lo faccio tigrato! Sta fermo lì, ok, micio? Chissà se così va bene! Ora sì che ci siamo! Le proporzioni devono essere esatte! Non va ancora bene! Ecco che cosa ci vuole! Giusto un pizzico di pelo! Meno male che ho gli occhiali! Facciamo due calcoli, allora... Sì, come pensavo! Ma che sta facendo, Annie? Ecco i risultati, sì! Come sospettavo! Basta scienza! Ci vuole creatività adesso! Ha già scaduto il tempo! Vediamo com'è andata, ragazzi! Non siate timide, su! Molto bene, Madison! È bellissimo! Adesso ti mostro come! Ti basterà scrivere Kat! E poi, unire tutte le lettere! Aggiungendo qualche dettaglio! Soprattutto il musetto! E qualche striatura, magari così! Sono identici, vero? Ci siamo! Va bene, ragazzi! Questa nuova cipria non è la migliore! Dura tutto il giorno, forza! Su, facciamoci un selfie! Non mi stanno neanche ascoltando! Eh sì! Cheryl! Ora basta! Separatevi! No! Non voglio che tu vada via! Mi mancherai così tanto, Cheryl! Siamo così vicine, eppure così lontani! Esatto! Si sta qui per imparare! Psst! Cosa? Che c'è? Possiamo usare i telefoni e parlarci? È un'idea super intelligente! Fammelo prendere! Ferma lì! Credete sia nata ieri? Niente telefoni, neanche il tuo! Li prendo io! Esatto! Potete riaverli dopo la lezione! Tornate al lavoro! Ok, fammi provare! Farò una palla e... Cheryl! È per te! Oh no! È atterrato troppo lontano! Ha visto qualcosa? Ok, sembra che stia leggendo! Siamo state fortunate! Ok, devo provare con qualcos'altro! Ho questo bicchiere! Lo capovolgo e poi taglio il fondo! Adesso mi serve un palloncino! Ne taglio un'estremità, lo apro e lo faccio scorrere sopra la tazza! Eccellente! Adesso sono pronta per provare il mio piccolo cannone di messaggi! Metterò il messaggio, tirerò indietro il palloncino e questo volerà! Oh, questo messaggio è per me! Fammi aprire! Come stai? Oh, ha mandato un messaggino per me! Sì, ha funzionato! Immagino che questo sia un messaggio da parte sua! Chissà che dice, ci vediamo dal preside! Anch'io so come fare un cannone! Ho bisogno di qualcosa che faccia girare la testa e so esattamente cosa! Tinte complementari per la vittoria! Ma manca ancora qualcosa! Che cosa? Ah, questa palla non va bene! Oh, mi piace troppo! Mamma! Oh, non adesso! Ok! C'è ancora molta vernice rimasta e che mi lascia spazio per giocare! Grazie! Non so proprio cosa fare! Ok, proverò con un po' di... Ehi! Dov'è finita la mia tavolozza di colori? David? Sei tu? Scusami tanto! Guarda! L'ho fatto io! Lo chiamo acqua di stagno! Oh, lo so! Vuoi dipingerti la faccia? Dacci dentro, David! Oh, sì! Voglio provare! Divertente, vero? Puoi dirlo forte! Sì? E se uso il dito? Eccolo! Ah, punti blu in arrivo, gente! Ma ora per il mio colore preferito! Ho finito! Guarda, mamma! Beh, non è incredibile! Ma proviamo un altro trucco! La simmetria può essere bella! E per dimostrare che è vero, puoi creare un'opera d'arte! È una bellissima farfalla! Questa linea le farà prendere vita! Insieme al contorno delle ali! Anche dall'altra parte! Così! Ecco! Ammira questa bellezza! Ed è solo l'inizio, figliolo! Se anche non si chiamasse rosa, avrebbe sempre un profumo così suave! Bene, sì! Ora disegniamo dei fiori! Oh, no! La mia tempera si è seccata! Uffa! E ora che faccio? Mi serve altro! Vediamo con che colore inizio! Rosa, ovviamente! No! Questo non puoi prenderlo! Serve a me! Per favore! La mia tempera è completamente secca! Ho detto di no! Devi pensarci da sola! E ora come voglio disegnare la mia rosa? Vorrei fosse bella! Ok, sì! Credo funzionerà alla perfezione! Non ci credo che non abbia voluto condividere con me! È cattivissima! Ok, mi sto innervosendo! Devo respirare! Wow! Mi sento un po' meglio! Che è successo al mio sacchetto? Ottimo! C'è tempera dappertutto! Levati, levati! Ma che? Tieni la tua tempera sul tuo foglio, per favore! Usa la busta per applicare la tempera! Oh! Ok, perfetto! Proverò come mi ha detto! Ecco qua! Forse un altro qui! No, vabbè! Stanno venendo benissimo! Chi l'avrebbe mai detto? Vediamo cos'altro posso fare! Ah, sì! Dove sta andando? Ehi, non importa! Può fare quello che vuole! Prendo un attimo in prestito questo! Tac! Sì! Ok, ho il pennello! È ora di finire la mia arte! Non si possono avere fiori senza belle foglie! È scaduto il tempo! Vediamo la tua rosa, per favore! Ok, sono pronta! Ecco la mia! Non è bellissima? Beh, la bellezza è nell'occhio di chi guarda, certo! Ma no, non lo è! Il suo invece sì! È bellissima! Eh sì! Ecco perché è la vincitrice in questo round! E vai, ne ho vinta un'altra! Non ci credo! Uh, caramelle! Le mie preferite! Guarda! Sì, congratulazioni! Ti senti particolarmente creativo? Forse lo sarai dopo aver visto questi hack! Ricorda di condividere il video con gli amici e iscriviti al canale per altri video fantastici come questo! Video fantastici!